A Bari, né bar, né le piazze, non si parla d'altro. Il tema del chiacchiericcio da alcuni giorni è sempre lo stesso, lo scandalo del noto ginecologo finito nella rete della trasmissione Le Iene. E sì, perché l'uomo, 68enne in pensione, da diversi anni non più operativo tra le corsie ospedaliere, ma attivo solo nel suo studio privato, è un luminare della ginecologia. E nella sua teoria ci crede davvero, come ha continuato a sostenere fino alla fine con la giornalista che ha avuto dei dubbi sui suoi metodi. Non spettano a giudicare quanto accaduto, se ha torto o ragione. È chiaro che un servizio televisivo necessita dei tagli, la donna in questione era un'attrice, e qualcosa potrebbe essere sfuggito nel racconto. Proprio per questo il materiale ora nelle mani della procura di Bari, che prosegue con le indagini. Ci limitiamo ai fatti. Un papillomavirus diagnosticato, anche se da analisi l'attrice sarebbe risultata negativa, e la cura proposta dal medico, un rapporto sessuale con persone vaccinate come lui che avrebbe potuto bonificare e guarire il corpo. L'incontro per il rapporto sessuale sarebbe avvenuto a distanza di giorni, in una camera d'albergo, dove l'attrice si sarebbe recata da sola, e non nello studio privato del medico. Se vi sia stato qualche reato, spetterà agli inquirenti stabilirlo, così come l'ordine dei medici è chiamato ad analizzare i comportamenti del dottore con la paziente. I leoni da tastiera sono tanti, pronti ad offendere anche in questo caso le presunte vittime, così come nel caso diventato ormai nazionale del ginecologo che parlava di masturbazione e proponeva visite in webcam. Donne che probabilmente hanno creduto alla buona fede della persona che si sono trovata di fronte, spaventate da malattie diagnosticate e che prese dal panico hanno creduto ad ogni parola, chiesa tanto di speranza. E delle volte quando ci si rende conto che le cose sono andate come non dovevano, si è già aperta una ferita. Trovano il coraggio di denunciare sapendo che quella ferita si lacererà di più, sì perché poi arrivano loro, i leoni da tastiera, pronti a ferirti ulteriormente.